Il sole si viva tutto il Made in Sud Passo, Passo Frank, tu mi fai ballare! Mi fai ballare tutta la sera! Continuiamo con Made in Sud, siamo qui in diretta, sono le 22.54 Chi è? Ti sta arrivando? Sì, attimo so Eh, beh quindi sei rimasta a piedi con la macchina Eh? E sui sigarette Come sigarette? Perché sappiamo se fumano? Aspetta Sì E' rimasta a piedi con la macchina La macchina quando si è firmata che cosa cacciava? E fuma e se sigaretta Il nostro dottore di Made in Sud Dottore, meno male che è qui, lo sai perché? Perché? Perché le devo fare un sacco di domande Ci arrivano un sacco di mail Da casa vogliono dei consigli sulla salute Posso leggere un pochino di mail? Se sigaretta Ma non sappiamo se fumano, dottore? Ah, non lo sappiamo No! Eh, proviamolo, proviamo Ci scrive Matteo, Matteo da Pomigliano Lui non vede da lontano Cosa deve fare? E viene più vicino, Matteo Ma te, ti fai sti problemi Stiamo a fare di nuovo E funziona? A volte sì A volte no Va bene Giada da Ciro Marina Soffre di alitosi Cosa deve fare? Ti ha sta zitto Dai Dottore Non parlare già E funziona? A volte sì A volte no Va bene Dottore Dottore, visto che è qui Posso approfittare di lei Le hai fatto tanti voti Ma non in quel senso Non faccio il maleducato Siccome io la mattina appena mi alzo Ho un fortissimo dolore al braccio Questo braccio destro Rimango quasi Che sigaretta? Che sigaretta? Io non fumo Sì No, non fumo io L'ideale Il movimento proprio Cosa può essere, dottore? Quindi Qui tu non fumi No, io non fumo E ti fa male il braccio Mi fa male il braccio la mattina Eh, che può essere L'isabe Eh, non lo so Ho pensato magari Che ho dormito male Hai dormito male Bravo, eh, meno male Lei può essere che hai dormito male Bravo Ma dottore Questo lo deve dire lei È lei il dottore Sì Hai dormito male L'ho detto bene Dottore, no Oppure Oppure cosa può essere? Che una cosa facci Magari la cervicale La cervicale Bravo, io Questa la cervicale Bravo, bravo Ma dottore Ma lo deve dire lei La cervicale Oh, ma te la sento così È giocato Allora, questa la cervicale No, dottore Per favore Ho questo problema al braccio Cosa posso fare? Il fotografia Ma dottore E funziona? A volte sì A volte no Andiamo Va che meglio